Finisce 2 a 2 al termine di una partita infinita il derby tutto adriatico del Mariani Pavone tra Pineto e Vastese con gli Aragonesi che riacciuffano il pari al novantasettesimo grazie ad un rigore contestato dai Biancazzurri e trasformato dall'ex Jonathan Alessandro dopo essere andati in avvantaggio nel primo tempo per poi farsi recuperare sempre su calcio di rigore e superare dalla rete del solito Minnozzi. Dopo una lunga fase di studio con le due squadre contratte e poche occasioni la gara si accende tra il ventisettesimo e la mezz'ora ad andare per primo in vantaggio sono gli ospiti che al ventisettesimo passano grazie al sinistro dal limite di Monza che di prima intenzione insacca l'incrocio per il momentaneo vantaggio aragonese. Un vantaggio che però dura appena due minuti perché al ventinovesimo il giovane Domizzi se ne va sulla destra salta il diretto marcatore entra in area e viene messo giù da De Angelis. Calcio di rigore per i Biancazzurri sul dischetto Baccardella che spiazza Di Rienzo e riporta il risultato in parità. La partita si accende e al trentatreesimo gli aragonesi vanno ad un passo dal gol del sorpasso con il destro di scafetta che lambisce il palo della porta difesa da Mercorelli. Quindi la regola non scritta più famosa del calcio si concretizza al minuto 43 quando il Pineto ribalta il risultato. Pezzotti se ne va in velocità sulla sinistra e crossa in area la sfera ribattuta da Ceccacci arriva a Minnozzi che carica il sinistro di prima intenzione che si insacca alle spalle di Di Rienzo. Quinto gol nelle ultime tre partite per il bomber Biancazzurro e il risultato ribaltato per la formazione di casa. Ultima emozione del primo tempo al quarantacinquesimo con la conclusione di Alonzi che impegna Mercorelli. Bravo a disinnescare. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 2 a 1 in favore della formazione di casa. Un cambio per parte per i due tecnici in apertura di ripresa. Pomante richiama Minnozzi per fare entrare Sposito inserito nell'insolita posizione di esterno di sinistra nel tridente. Nella vastese Tridici oggi chiamato a fare le veci dello squalificato da Derio si gioca la carta a Jonathan Alessandro richiamando De Angelis con gli aragonesi a trazione anteriore. Ma il primo acuto è Del Pineto al quattordicesimo con Della Quercia che dalla destra serve in area Barlafante che di testa spedisce oltre la traversa. La gara è spezzettata. Le due squadre si annullano a vicenda con la vastese che tenta di fare la partita e di arginare i punti di forza del Pineto raddoppiando sui portatori di palla e i biancazzurri in controllo del risultato. Gli aragonesi provano a farsi vedere sulla tre quarti al ventiseiesimo con la conclusione di Lenoci ribattuta da Pezzotti. Al quarantaquattresimo la vastese pareggia con Alonzi ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Il finale di gara è incandescente. Al quarantasettesimo secondo calcio di rigore di giornata accordato al Pineto. Cercelluti serve Baldinini che apre per Barlafante fermato così da Di Rienzo. Il direttore di gara Grieco della sezione di Ascoli Piceno indica il dischetto ma esposito dagli undici metri si fa ipnotizzare da Di Rienzo fallendo l'occasione per chiudere la contesa. Il forcing vastese continua al cinquantunesimo quando Romanucci in diagonale chiama al miracolo un supermercorelli. Ma quando i biancazzurri pregustano il sapore della vittoria al cinquantaduesimo in pieno recupero il direttore di gara decreta il terzo penalty di giornata ravvisando con la massima punizione un fallo di mani in area di esposito. Dal dischetto l'ex Jonathan Alessandro non sbaglia e fa due a due dando il là ad una festa che è tutta biancorossa. L'intera panchina della vastese entra in campo per un pareggio che vale oro e che oltre al punto manda alle stelle il morale dei biancorossi. Tanta amarezza in casa Pineto per non aver chiuso prima la contesa e per una prestazione che non è piaciuta al tecnico Pomante. Ora la vetta dista sette lunghezze. Mister Pomante una partita combattuta che è stata decisa nel finale da un episodio peccato non averla chiusa prima vien da dire. Quanto rammarico c'è? Il rammarico è tanto anche se oggi onestamente non abbiamo fatto una grossa partita anzi quest'anno penso sia stata la più brutta partita fatta soprattutto a livello tecnico dalla mia squadra anche se ai miei ragazzi dal punto di vista dell'impegno della cattiveria non gli posso rimprovenare nulla perché pur soffrendo però hanno saputo soffrire hanno saputo ribattere ogni colpo ogni azione importante da parte della vastese che oggi ha fatto un'ottima partita anche se la vastese secondo me è un'ottima squadra. Il normale rammarico è quello, lo metto tu, che c'è stata la possibilità di chiudere la partita e poi alla fine un episodio come il rigore loro ci ha punito, ci ha punito. Dispiace, dispiace anche come ho detto prima, sono consapevole che oggi non abbiamo fatto una buona partita. Prima, fino a domenica scorsa, a livello di gioco la mia squadra ha sempre imposto il gioco. Oggi siamo riusciti in più poco a fare quello, è normale che il campo era pesante e non ci permetteva di giocare veloce la palla. Siamo stati poco luci, ci palla al piede, ci sta, ci sta, penso che siano i geni di percorso. Il rammarico è quello perché alla fine della partita aveva avuto la forza di ribaltare il risultato, che non c'era mai successo quest'anno. Dispiace per i ragazzi perché i ragazzi all'interno sono tristi, qualcuno addirittura piange, di quella sincera verità, perché gli dispiace perché stavamo vincendo una partita sofferta, una partita fatta col cuore, però alla fine, come ho detto tu, il rigore di Alessandro ci ha punito, però penso che il pareggio sia giusto. Diciamo che abbiamo incontrato una delle più forti squadre del campionato, complimenti all'allenatore perché è molto organizzata, noi l'avevamo preparata molto bene appunto per questo motivo, loro erano forti in tutti i reparti, abbiamo cercato di arginare le loro punti di forza per poi colpirli dove noi potevamo. Dopo c'è stato un rigore discutibile, il primo e anche il secondo, adesso io ero lontano quindi non potevo vedere. Però la partita è stata combattuta fino alla fine da parte nostra e da parte loro, quindi vuol dire che ci tenevamo sia noi che loro a fare almeno un risultato.